Buongiorno. Buongiorno, sono del Sud. La verità è che non ho avviato per non ho avviato il numero 11. Non ho capito, signora. Avviato per non ho avviato il numero 11, signora. Eh, che è successo? È successo, che il signore è tutto su questa canna, e il signore mi spugnato tutti i costi, però che mi avrei avuto la roba, che consiglio di provare che il signore faccino è la sua abbasso. E che passi sentirei buono, signora? Eh, che è successo? E come mi si chiama? Come si chiama, chiama! E, da una maggiore fuori sui. E, da una monna,нее che abilato perché la cenda bella l'acqua, signora. No, non buono abilato, abilato ha faccierto, a me immaginiamo che hai scopato in ospedale. E, ma che passi sentirei? A, male, di valore è, da una maggiore fuori. Signora, non vai prendere pezzo, le materie non puoi? No, non sei perché, non è proprio il gabinato che sta scopando, non è la sua abbasso. Eh, signor, ma che mi serve a voi? Noi siamo in servizio di emergenza sanitaria. Eh, eh, sì, 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 sanitaria esiste. Vuoi avere ragione? Ci spaventiamo in cuore la signora a basso. Signor, noi siamo in emergenza sanitaria, non ne guardammi questo, guardammi i cristiani. Sì, ma io non voglio fare la docenza mia. Eh, ma perché non voglio fare la docenza mia? Signor, forse non mi sono schifato, noi siamo in emergenza sanitaria. Anc'e, anche una sinistra l'argomento, perché è una presenza a signor per dipendere, sa se non abbia la signora che ci le faccio. Ha, di capire? Beh, perché è la sinistra per approcciare, ci siamo in grado? Non, ma io non lo soffriare, ma io la signor non lo soffriare andrò. Ma per chi non sta? La signora ne va avare la signora, non lo soffriare? No, io sì, la signora non lo soffriare, non lo soffriare, vi va fare a signora. No, io lascio male in scuola, noi non vi faccio il caso. E signor, si non mi aveva il rischio del 83, si soffriano il 83. e poi fatti che hanno avuto un'attrice, la bolla!